Musica Benvenuti al TG10, in apertura del telegiornale torniamo ad occuparci oggi dei due arresti eseguiti a regela dalla squadra mobile e dalla polizia sul fronte del contrasto al racket delle estorsioni. I due affiliati al clan Emanuello avevano preso di mira un imprenditore impegnato nel settore della raccolta della plastica dismessa dalle serre nelle contrade Bulala e Migniechi. La vittima ha denunciato grazie all'opera dell'associazione anti-racket che è riuscita ad infondere negli imprenditori il coraggio di raccontare quanto accaduto avendo fiducia nelle istituzioni. E oggi noi ne abbiamo parlato con il presidente dell'anti-racket Renzo Caponetti. Renzo Caponetti, è stato facile convincere l'imprenditore a denunciare? Qualche problema c'è stato, nel senso che stiamo parlando di appartenenti a cosa nostra, stiamo parlando di esponenti principali pericolosi, mafiosi, molto conosciuti, quindi come tutta la famiglia Trubia e tutti gli altri a seguito che minacciavano anche con le armi se si opponevano al loro gioco mafioso. Quindi questo tipo di estorsioni che si sono inventati in questo ultimo periodo aveva messo ancora di più in difficoltà gli imprenditori alla denuncia. Però io sono uno di quelli che piano piano mi piace lavorare e sono riuscito nell'intento a far capire loro che oggi noi siamo dalla parte giusta, non ci sono alibi, le istituzioni ci sono, lo Stato c'è, le forze dell'ordine sono con noi, la procura, la magistratura, quindi ho fatto capire loro che l'unica via era quella di denunciare e ci siamo riusciti alla grande. C'è un vero e proprio diktat da parte dei clan mafiosi, chi non paga non lavora. Ecco, loro volevano far mettere queste leggi, questo regolamento diciamo tra virgolette, volevano mettere nel territorio compreso tra Gila e Vittoria, però hanno trovato in mezzo questo ostacolo grande dell'associazione anti-racket e le istituzioni, le forze dell'ordine, in questo caso con la polizia che effettivamente hanno strongato sul nascere. Ma le cose non erano finite lì, c'erano ancora delle cellule che ancora forse non erano state individuate, che con un'attività investigativa ulteriore della squadra mobile, con Marcia Giussolisi, del commissariato di Gila, con il dottore Francesco Marino, sono riusciti ad individuare con l'ennesima denuncia degli imprenditori che abbiamo accompagnato. Ieri, dunque nel corso dell'operazione Rdvv2, sono stati arrestati due soggetti, due esponenti del clan Emanuello. Secondo lei l'operazione è conclusa o ci saranno anche degli sviluppi? Ci potrebbe essere ancora qualche altro componente da sottolineare e tenere sott'occhio. Come federazione nazionale anti-racket avete anche promosso un video che è sui social e che riguarda anche Gela ed alcuni imprenditori di Gela ci hanno messo, se vogliamo, la faccia perché hanno denunciato i propri aguzzini. Sì, questo è un docufilm che ha fatto la FAI con il partenariato del Ministero dell'Interno, si chiama Pillole di Coraggio, lo consiglio a tutti di vedere, basta andare in internet e scrivere Pillole di Coraggio, FAI o anti-racket, spunta immediatamente, uno clicca e vede il video e lì nelle docufilm si vedono parte degli imprenditori, gli imprenditori sono 174 esattamente, quindi per esigenze di spazio ne abbiamo fatti vedere qualcuno ma già ci mettono la loro faccia. Ora, questi di ora, è illogico mettere la faccia ora, ma fra qualche anno, fra 5-6 anni anche loro ci metteranno la loro faccia e possibilmente sarà fatto un altro docufilm. Denunciate sempre. Denunciate assolutamente senza nessun timore, ripeto non ci sono alibi, lo Stato è con noi, le forze dell'ordine ci sono, anche se siamo a volte un pochettino sotto organico, però sono abilissimi nelle investigazioni. Cambiamo argomento e adesso parliamo della vicenda legata all'adesione di Gela alla città metropolitana di Catania, oggi interviene il segretario di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, Gaetano Minardi. Gela alla città metropolitana di Catania, si parla tanto dell'emigrazione nell'area Tenea, ma oggi, giovedì sottobre, di concreto c'è poco o nulla, a maggior ragione dopo la decisione assunta qualche tempo dietro dall'Assemblea regionale siciliana che ha bocciato i decreti legge che dovevano solo formalizzare il passaggio territoriale della città del Golfo, di Piazza Merina e di Niscemi. Sulla vicenda oggi è intervenuto il segretario cittadino di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, Gaetano Minardi. Il passaggio alla città metropolitana di Catania, dice Minardi, è importante e porterà numerosi vantaggi. Noi siamo fermamente convinti che l'adesione alla città metropolitana possa essere un elemento di sviluppo per il nostro territorio. C'è molto poco in giro. Siamo stati ingannati e illusi da quelli che sono i politicanti di turno, i quali hanno promesso mari e monti, hanno promesso sviluppo, hanno promesso porti, aeroporti, hanno promesso riconversioni della raffineria, ma a oggi nulla e niente di tutto questo. Quindi riteniamo che l'adesione a Catania, che certamente è una città molto più economicamente diversa dalla realtà nissena, possa rappresentare un elemento di sviluppo per le nostre popolazioni. Certo, poi dipende dai rappresentanti che Gela riesce ad avere e quello che riescono a contare in un contesto come la città metropolitana di Catania. Gela ha speso quasi 200 mila euro per promuovere il referendum popolare del 2014. In tanti hanno detto sì all'emigrazione da Caltanissetta. Da allora ad oggi però non è cambiato nulla. I nostri deputati o i nostri rappresentanti nei vari parlamenti dovrebbero essere quantomeno rispettosi di quella che è la volontà popolare. Se no rischiamo di valere quanto il 2 di coppe. Già contiamo poco per questi signori, ma se non tengono conto nemmeno di un referendum popolare andiamo proprio male. Il segretario di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale si rivolge direttamente all'amministrazione comunale. Noi dobbiamo capire l'amministrazione comunale. Se è d'accordo e mi pare che Messinese e la sua giunta sono concordi a questa adesione di progetto all'area metropolitana, di conseguenza devono rispettare tutti gli atti inerenti a questa richiesta. In occasione della festa della Madonna del Parto che si venerà nella chiesa di Sant'Agostino a Gela si darà domenica 9 ottobre alle 17.30 la benedizione delle mamme in attesa preseduta da Monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo e dal vescovo di Piazza Merina Monsignor Rosario Gisara. L'animazione della celebrazione eucaristica è stata affidata al CAV, centro di aiuto alla vita e al coro Cor Unum. Saranno presenti i soci del Soroptimista di Gela che nel 2012 hanno fatto restaurare l'antica immagine. Alle 19 presso la parrocchia di San Sebastiano si trarà la celebrazione eucaristica e l'insegnamento sulle opere di misericordia tenuta da Monsignor Lorefice. Inoltre sabato 15 e domenica 16 ottobre presso la chiesa di Sant'Agostino arriveranno dal santuario di Cascia le reliquie di Santa Rita. Il reliquiario in quest'anno giubilare sta visitando tutte le chiese nel mondo dove si viene dalla Santa dei casi impossibili. E' stato firmato il contratto integrativo provinciale che stende i suoi effetti ai lavoratori dipendenti dalle imprese diri ed affini della provincia di Caltanissetta. L'accordo è stato siglato tra il lance di Caltanissetta e le federazioni del settore delle costruzioni Filca Cislo, Fenea Will e Fillea Cigelle. L'elemento variabile della retribuzione è stato definito dalle parti territoriali nella misura del 4%. Il contenuto in alcuni suoi passaggi presenta elementi fortemente innovativi per il territorio nisseno come il capitolo riguardante il contratto unico di cantiere. E' lo strumento di contrattazione inclusivo per omogenizzare le tutele e le contribuzioni di tutti gli addetti che operano nei cantieri in materia di sicurezza e formazione applicando solo ed esclusivamente il contratto edile. Il nuovo contratto integrativo provinciale introduce anche il tema della congruità con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del lavoro nero. Sarà istituito verso la Cassa Edile di Caltanissetta un osservatorio che attraverso i dati elaborati tra gli enti bilaterali e le stazioni appaltanti determinerà la reale incidenza di mano d'opera per ogni singolo appalto. Anche gli istituti contrattuali, quelli più tradizionali, mensa e trasporto, sono stati rivisti con un incremento sostanziale rispetto al precedente contratto provinciale. Riflettori accesi anche in tema di assistenza extracontrattuale con l'aumento delle prestazioni con tributo scolastico, nascita figli, matrimonio, prestazioni odontoiatriche, oculistiche ed ortopediche rispetto al precedente contratto. Riflettori accesi anche in tema di assistenza extracontrattuale con l'aumento delle prestazioni rispetto al precedente contratto con tributo scolastico, nascita figlio, matrimonio, prestazioni odontoiatriche, oculistiche e ortopediche. L'accordo è stato raggiunto in un momento particolare che caratterizza la vita del settore delle costruzioni che purtroppo stenta a rialzarsi. Servono investimenti e politiche industriali adeguate per la riconversione sostenibile dell'intero settore perché il volume degli investimenti pubblici è ancora insufficiente oltre che lento. C'è una fetta consistente di economia che potrebbe scatenarsi riqualificando i centri storici o con la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Bisogna intervenire con adeguate politiche di sviluppo e di investimento per ammodernare il paese in termini infrastrutturali per l'assetto idrogeologico, il rilancio delle città per una economia compatibile e sostenibile. Non è necessaria alcuna alchimia, sostengono le sigle sindacali, per constatare che la Sicilia è un barcone carico di ansie e preoccupazioni che affonda a vista per l'incapacità di una classe dirigente che non riesce a programmare e progettare lo sviluppo economico dell'isola. C'è il rischio che questa vasta area centrale della Sicilia verrà colpita da un esodo di massa senza precedenti. L'ondata migratoria di inizio novecento sembrerà a confronto, sostengono i sindacati, una gita scolastica. Gela è stata scelta come sede del convegno scientifico sulle patologie rare del sangue. Ne dà notizia la situazione italiana a pazienti con malattie mieloprofilarative preseduta in città da Giacomo Giurato. Il nostro obiettivo di questa realtà è quello di aumentare le opportunità di ricerca scientifica sulla causa e la cura della mielofibrosi, di divulgare la conoscenza della malattia fra i pazienti e i medici e di promuovere un'assistenza adeguata ai malati e alle loro famiglie. L'iniziativa ha il patrocinio dell'Assemblea regionale siciliana della regione Sicilia e del comune di Gela e costituisce una vetrina internazionale per la città del Golfo. L'appuntamento è per il 15 ottobre alle 18 nella sala congressi della Sicania Resort. Il giorno dopo, domenica 16, è prevista una tappa a Gela con una visita guidata presso i siti archeologici delle mura Timoleontè, del Museo regionale e dei bagni greci. Costruiamo insieme un futuro di diritti e informazione. È questo lo slogan che accompagna la prima edizione della Settimana Nazionale della Dislessia. Quest'anno infatti, dal 4 al 10 ottobre, vengono organizzate dall'AID, Associazione Nazionale della Dislessia, iniziative in tutta Italia per dare maggiore informazione sui DSA, cioè disturbi specifici dell'apprendimento. E così anche a Caltanissetta, questa domenica 9 ottobre, in Piazza Garibaldi, sarà allestito uno stand divulgativo. Mentre lunedì 10 ottobre, alle ore 16, ci sarà un seminario, dal titolo Legge 170-2010, modalità sulla corretta compilazione del piano didattico personalizzato. L'incontro si svolgerà presso l'Aula Magna del Consorzio Universitario di Caltanissetta di Palazzo Moncada, in corso Vittorio Emanuele, e si rivolgerà a docenti e famiglie. La settimana della dislessia rientra in un contesto più ampio della settimana europea della dislessia. Tutto nasce per sensibilizzare ultimamente le utenze, che per noi sono le famiglie, ma prioritariamente parliamo di istituzioni scolastiche, al fine di sensibilizzarle sui problemi e sul disturbo, che hanno una grossa fascia di ragazzi pre- e post-adolescenziali, come disturbo dell'apprendimento. Il nostro compito fondamentale è proprio quello di sensibilizzare le istituzioni e più che sensibilizzare, sensibilizzare e informare sia le istituzioni scolastiche che i nostri sogni su quali sono i diritti, nonché le possibilità di aiuto che possiamo dare ai nostri ragazzi. In questo contesto rientra il seminario e gli stand che faremo in piazza e che servono proprio per pubblicizzare al meglio sui corretti modi di operare con i ragazzi dislessici. Il voler fare questo evento, che è un evento che tra parentesi si sviluppa in tutte le province italiane, è proprio quello. Il nostro compito non è quello né di bacchettare l'istituzione né quello di congiapporciare l'istituzione. Noi vogliamo lavorare con l'istituzione, le famiglie vogliono lavorare con l'istituzione perché il vero problema sono i ragazzi, i ragazzi sono i nostri figli. E su questo noi vogliamo. E quindi dare la possibilità e informare bene la classe docente su quale possono essere i migliori percorsi di trattare con questi ragazzi è per noi fondamentale. Un campo a scuola dedicato a tutte le persone che soffrono di diabete, ai loro familiari e ai loro amici. È organizzato dall'Ade, l'associazione di diabetici Eschilo, presieduta da Giacomo Curatolo. Si trarà da venerdì 14 a domenica 16 ottobre presso il villaggio turistico Sicania Resort. Gli incontri inizieranno venerdì alle 16.30 e termineranno domenica alle 17.30. Diversi esperti in funzione di docenti per le singole competenze che prenderanno parte alla tre giorni di incontri. Chi è interessato può partecipare contattando il seguente numero telefonico 393-3748-604 lo ripetiamo 393-3748-604 Fai la cosa giusta. Differenzi ai rifiuti. Mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi giovedì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione il vetro nella pattumiera di colore verde in dotazione. Cosa conferire? Bottiglie prive di tappi. Fiaschi senza paglia. Barattoli e vasetti. Bicchiere e brocche solo se in vetro, non cristallo. Vetri vari anche se rotti. Contenitori vari in vetro per alimenti e non, senza tappi e o altri materiali diversi. Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche, senza terra e senza vaso. Pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Un ambiente pulito e sano, basta un piccolo gesto. Siamo ritornati, secondo parte del telegiornale, Gela Segreta dentro l'Acropoli e l'iniziativa promossa dal Polo Archeologico Regionale di Gela e di Caltanessetta e dall'Archeoclub d'Italia, sezione di Gela, si terrà domani alle 20.30. In quell'occasione l'Acropoli di Molino a Vento aprirà i cancelli per una visita eccezionale all'interno del quartiere abitativo, di solito visibile solo dall'alto. Guidati dagli archeologi, i partecipanti potranno camminare tra le testimonianze degli ambienti antichi, calpestare la storia, scoprire come si svolgeva la vita quotidiana grazie ad alcune ricostruzioni di vase lame pensate per Gela Segreta. La passeggiata guidata, lo ricordiamo, è totalmente gratuita. Chi vuole partecipare dovrà indossare scarpe comode e portare con sé delle torce elettriche. Forestani nuovamente sul piede di guerra per reclamare i loro diritti. I lavoratori del servizio antincendio boschivo 504 in provincia di Caltanissetta infatti attendono ancora due mensilità retrate oltre al rimborso per i chilometraggi. Una situazione che puntualmente si ripete che gli stessi sembrano ormai non più tollerare. A ciò si aggiunge anche la sospensione del servizio boschivo il 5 e il 6 ottobre con la ripresa venerdì 7 con una sola turnazione dalle ore 12 alle ore 18 e 30 e il mancato impiego quest'anno dei forestali nei servizi di protezione civile per i comuni. Una situazione che vede il contrario il sindacato dell'UGL, pronta ad avviare tutte le azioni di lotta a volte a tutelare i diritti dei lavoratori. I forestali sono sempre privi dei suoi diritti in quanto non vengono erogati gli stipendi mensilmente e in cui noi mettiamo 15 euro, 16 euro di chilometraggio e non viene mai pagato anche se c'è l'accordo con la regione che devono pagare i chilometraggi mensilmente e noi ancora aspettiamo il chilometraggio del 2015, quindi chiediamo a questi signori di rispettare le leggi e andare avanti così. Siamo stati contattati e informati in quanto le altre delegazioni sindacali avevano contattato e confermato la sospensione del servizio e l'UGL era tutto al contrario, non voleva né sospensioni e continuare il servizio fino al 15 per come le leggi. Un'altra cosa è i stipendi. Gli stipendi ancora non sono stati erogati di giugno e luglio a Caltanissetta e questo non si può condividere in quanto i tecnici della forestale fanno sempre degli errori su di noi e questa è una cosa che non può andare perché qua lavoriamo per portare il salario a casa e stare bene tutta la famiglia. Una riforma e una riorganizzazione del corpo forestale, la richiesta dell'UGL. Stiamo a creare un problema che non esiste, quindi quest'anno abbiamo creato il problema delle giornate lavorative che mancavano 10 giorni per quanto riguarda il problema dei finanziamenti regionali che poi puntualmente come ogni anno viene risolto. Questo serve a spostare il vero problema per quanto riguarda la riorganizzazione del combattuto forestale e quindi fare un'ottima riforma per dare dignità e stabilità a questi lavoratori tutto l'anno e invece creiamo dei problemi che non esistono per ogni anno non fare niente e ci ritroviamo ogni anno a combattere su delle problematiche che non esistono. La riserva naturale Biviere di Gela e l'associazione polisportiva equestre Gela Peg, Lago Biviere, organizzano per domenica 9 ottobre un raduno di cavalieri che si trarrà nella riserva naturale. I cavalieri, solitari o iscritti ad associazioni, avranno modo di scoprire a cavallo angoli suggestivi della riserva lungo un tragitto avventuroso ideato per l'evento. Adulti e bambini che per la prima volta vorranno avvicinarsi al mondo dell'equitazione avranno modo di provare e montare un cavallo o un poli messi a disposizione gratuitamente dalla associazione PEG Lago Biviere. Per informazioni contattare il 340-9950-726, lo ripetiamo, 340-9950-726 o il 345-6612-743, 345-6612-743. E ora parliamo di calcio e del derby Gela-Ige Virtus previsto per domenica prossima al Presti, monta l'attesa in città. Allenamenti intensi sul rifatto manto erboso del Presti per il Gela e Biancazzurri agli ordini del tecnico Pietro Infantino sudano e tanto. All'orizzonte c'è la sfida ad alta classifica con la capolista Ige Virtus, un appuntamento che richiamerà il pubblico delle grandi occasioni. I gelesi filano come un diretto in campionato, imbattuti e con una gran voglia di fare bene. Noi dobbiamo proseguire sul nostro obiettivo, sulla nostra mentalità e finalmente torniamo a casa nostra, questo è che ci mancava. Noi siamo felici che arriva la capolista, ben venga, noi dobbiamo seguire per il nostro cammino perché abbiamo un obiettivo e aspettiamo chiunque. Si parla sempre di obiettivi, ma qual è l'obiettivo del Gela? L'obiettivo del Gela è sicuramente arrivare prima possibile alla salvezza e ci salviamo, poi io spero di arrivare prima possibile così abbiamo un altro obiettivo da raggiungere, così almeno abbiamo anche un po' da divertirci e lo spero. Poi strada facendo vediamo, prima c'è la salvezza e poi dopo pensiamo a tutt'altro. Domenica scorsa stavate vincendo, avete rischiato di perdere e alla fine avete pareggiato? Domenica scorsa è stata una domenica un po' strana perché siamo andati in vantaggio, siamo stati molto bravi, abbiamo rischiato di fare il 2-0, purtroppo non è andata così, c'è stato un dieci minuti di blackout però siamo stati bravi a non mollare, questa è infatti la forza del gruppo e devo dire grazie ai miei compagni perché non abbiamo mollato fino al 95esimo e questa è la nostra forza e quello che ci trasmette il mister è quello in cui stiamo lavorando da quanto è arrivato il mister, perciò questo è un grande gruppo che non molla, se si vince si perde sicuramente si stringe la mano all'avversario ma noi fino al 95esimo questo è il nostro obiettivo di non mollare. Domenica finalmente si tornerà a giocare al Presti e come dicevamo saranno in tanti a recarsi allo stadio e l'apporto dei tifosi sarà fondamentale. Questa è la nostra casa, deve essere il nostro fortino e domenica quando siamo andati a Leonforte è mancato il pubblico, è mancato il terreno di gioco perché noi siamo una squadra che stiamo tentando di giocare a calcio e ti posso garantire che tutti voi siete il dodicesimo uomo in campo. La soluzione italiana arbitri indice il corso nazionale per arbitri di calcio per la stagione sportiva 2016-2017. Le iscrizioni dovranno essere accolte tramite le 211 sezioni dislocate sul territorio nazionale entro il 31 ottobre. Per la provincia di Caltanissetta saranno organizzati due corsi di cui uno a Gela promosso dal referente AIA Riccardo Zagarini. Possono partecipare gratuitamente tutti i candidati di ambo i sessi che siano cittadini della comunità europea che abbiano compiuto alla data dell'esame il quindicesimo anno di età. Al termine del corso il candidato dovrà sostenere una prova di ammissione all'esame, prova che prevede dei test scritti e orali sul regolamento del gioco del calcio e un test di idoneità atletica. Per informazioni 0933 91 11 09 338 45 96 071. È scattata la campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2016-2017 all'antidoto di Macchitella a Gela. Il cartellone che comincerà il prossimo 23 novembre prevede tra gli altri l'esibizione di Pippo Franco. L'abbonamento intero costa 70 euro, 55 euro ridotto per i giovani. Ci sono anche dei numeri telefonici per avere ulteriori informazioni. 338 71 43 293 330 225 442 09 33 82 2707. È nuova stagione teatrale anche all'eschilo di Gela. Dall'8 novembre in scena i più grandi artisti italiani del teatro e della televisione. Gabriel Garco, Ugo Pagliai, Raimondo Todaro, Marco Bocci, Mariangela D'Abraccio, Enrico Guarneri, Tuccio Musumeci, Marisa Laurito, Gianfranco D'Angelo, Barbara Boucher ed altri ancora. Per informazioni recarsi in teatro ogni giorno dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20. Ci sono due numeri telefonici 09 33 91 18 92 e 3 4 5 5 8 8 0 5 8 0. In questo caso il prezzo dell'appuramento è di 90 euro. Abbiamo concluso. Anche per oggi grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti